Un migliaio di volontari all'opera è il cuore grande dei bellunesi per aiutare le persone in difficoltà. Anche nella nostra provincia si è rinnovato l'appuntamento con la giornata nazionale della colletta alimentare giunta alla sua 28esima edizione. L'iniziativa promossa dal Banco Alimentare assieme alla collaborazione di diversi punti vendita invita le persone a donare al momento della spesa alimenti non deperibili a chi ne ha più bisogno. Con il supporto delle 32 associazioni convenzionate sono oltre 3.000 le persone che il Banco Alimentare sostiene nella nostra provincia. Un numero in costante aumento così come aumentano le tipologie di individui che necessitano di aiuto. Spaziamo su tutte le fasce di età, spaziamo su tutte le fasce di provenienza, non solo extra comunitari, si parla di un 60%, nella provincia forse qualcosina meno ma ci sono anche tanti residenti che hanno questo problema. Anziani soli sicuramente ma anche tante famiglie, soprattutto quelli che hanno bambini che hanno difficoltà di arrivare a fine mese. 121 i punti vendita coinvolti, molti di più i volontari di tutte le età. In prima linea non potevano mancare gli alpini, da sempre attenti ai bisogni dei più deboli, ma nutrita anche la presenza di giovani e studenti, anche grazie alle collaborazioni che negli anni il Banco Alimentare ha costruito con le scuole della nostra provincia. Il volontariato è sempre una nostra prerogativa, ci piace poter fare del bene e aiutare chi ha bisogno, quindi siamo sempre disponibili anche per queste manifestazioni come la colletta alimentare. È stata un'esperienza sicuramente positiva, non l'avevo mai fatto e posso dire che mi è piaciuto, sì. Il bellunese risulta particolarmente solidale, lo dice uno che non è bellunese ma lo devo riconoscere. Seppur c'è un po' di diffidenza perché tante volte si pensa che le cose raccolte vadano perse o vadano a finire chissà che, posso assicurare che tutto quello che fa il Banco per la provincia è sicuramente utilizzato fino all'ultimo alimento.